A Pescara per parlare di imprese costruite per durare, due punti di vista, il consulente e l'imprenditore. Come si fa a costruire un'impresa per durare? Si deve avere il coraggio del cambiamento. Rispetto ad una società che in questo momento cambia ad un ritmo incredibile, l'imprenditore deve essere capace di continuare su quella che è la propria linea, ma nello stesso tempo assorbire e modificare la propria struttura e la propria organizzazione per adeguarsi al cambiamento della società. Logicamente è una sfida importante perché la resistenza al cambiamento sappiamo che è uno dei maggiori problemi in realtà in tutti gli aspetti della società e questo purtroppo avviene anche all'interno dell'impresa. Il consulente? Diciamo che un po' consulente e un po' anche esperienza diretta perché io sono 40 anni che faccio consigli di amministrazione e collegi sindacali e quindi mi è abbastanza chiara la questione. Sono assolutamente d'accordo e in più bisogna valorizzare le risorse interne, bisogna migliorare il rapporto e il passaggio delle informazioni, bisogna sedersi intorno a un tavolo, mettere intorno a un tavolo le professionalità diverse e da questo lo sviluppo e la crescita vengono fuori, non dico automaticamente, ma molto più facilmente. Oggi sentiremo delle visioni, delle esperienze da parte di diversi imprenditori, ne usciremo forse più preparati ad affrontare la sfida che ci accoglie. Diciamo che ogni volta la cosa più importante è imparare sempre qualcosa di nuovo, parlando si impara sempre qualcosa di nuovo, quindi mettersi intorno a un tavolo e vedere esperienze diverse è fondamentale, poi alla fine tutte le esperienze servono per migliorare il proprio modo di lavorare e ottenere quella che è la cosa che ci interessa di più, cioè avere aziende che sono in grado di durare in più nel tempo. Sì, ritengo che la cosa importante è capire che nessuno può offrire una ricetta valida per tutti. L'intelligenza sa nel percepire quelle che sono le capacità degli altri imprenditori di successo di aver risposto alle esigenze di mercato per cercare di capire effettivamente come poterle adattare alla propria realtà. Assolutamente d'accordo. Grazie.